Noi ci fa male questa sconfitta, adesso cartellino rosso e le altre cose non le pensiamo. Noi pensiamo solo che non siamo riusciti ancora a vincere contro una grande e dobbiamo capire che cosa ci manca e reagire subito. Certo perché ci sono giocatori veramente forti, lo dimostrano sempre, quindi noi dobbiamo pensare di difendersi molto meglio, però è così il calcio succedono questi piccoli errori, se no tutte le partite finirebbero a zero. Poi certo che c'è la capacità del Napoli che è tanta, ma noi dobbiamo cercare di sbagliare molto meno. Noi dobbiamo andare sereni, soprattutto sereni e con la voglia che abbiamo in ogni allenamento, che ci alleniamo a mille, quindi noi non dobbiamo preoccuparsi, dobbiamo solo continuare a lavorare come facciamo, stare sene e giocare come sappiamo. Grazie. Grazie